Allora ragazzi dobbiamo operarlo urgentemente perché il paziente è molto grave. Pronti? Bistoli? Bistoli. Forbici. Forbici. Antidolorifici 40cc. 40cc. Stetoscopio. Stetoscopio. Cominciamo. Povero cuore, io ti metto alla prova, un povero me ne mi perderò. Anche prove, un povero me ne mi perderò. Dobbiamo cambiare cura, dobbiamo cambiare cura, somministriamo dello filofoco ma piccoli battiti. Non ti prenderò mai cura di te. No, 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 no. Più 5, più 5, più 5, più 5, più 5. Ma stiamo perdendo, ma stiamo perdendo, ma che sintomi hai il paziente? Sintomatologia. Abbiamo un sint di piano. No, il piano non va bene. Uno di chiesa. Ma come la chiesa? C'è ancora un altro pobrescio per la chiesa. Ragazzi, ma un po' di allegro. L'allegro. Dell'ukulele. L'ukulele, va bene. Umana sorridi, sei sempre migliore. Umana sorridi, chi sta meglio di te. Umana sorridi, chi sempre è un povero. Alla fine si muore Si ma tranquilla, non oggi Avanti il prossimo cat question l'abbiamo fatto!